12 38 12 38 allora eccolo qua lo salutiamo con molto piacere jonathan giustini promotore culturale ciao ciao jonathan buongiorno buongiorno formidabile promotore culturale grazie troppo buono figuriamoci bello a roma esistono dei luoghi straordinari ecco mi stavi raccontando ma adesso ne facciamo dominio pubblico di quello che c'è che esiste che peraltro supponiamo esista esiste e cioè a roma una roma che comunque ha tanti angoli tanti vicoli tante cose preziose tanti tesori c'è ancora molto da scoprire a scoprire che un appartamento è stato abitato vissuto da alcuni artisti e prima di quello da altri artisti ed è e magari tutto un una comunità di appartamenti sono di proprietà di una vecchia signora cioè succedono delle cose incredibili allora però partiamo con ordine jonathan giustini è qui per presentare sconfinamenti è una mostra d'arte molto particolare che appunto sconfina parliamone jonathan siamo negli studi storici di mario schifano che adesso sono come dire stati sono sono gestiti dalla capitolium a gallery che è una galleria d'arte una bellissima galleria d'arte e che fa mostre eventi eccetera in questi studi abbiamo messo in piedi una quattro giorni dedicata al comics dedicata al fumetto la nona arte quella che ormai è definita non arti contemporanea con quello che succede al saint pompidoux di parigi dove lo stesso come dire con lo stesso concetto loro ovviamente sono sono con un evento di lungo sei mesi che invaso letteralmente il pompidoux noi avremo un evento che invece durerà quattro giorni fino a sabato sconfinamenti ma la mostra di tutte le tavole originali questi artisti straordinari che abbiamo che mi ha coinvolto adesso parliamo dico e sarà fino a metà di settembre il 13 settembre avremo poi l'inaugurazione vera e propria il cosiddetto vernissage come dicono i francesi così vernissage il 13 di invece di giugno ci sarà il vernissage e quindi venisaggio aperto al pubblico inviti eccetera eccetera e invece sconfinamenti il festival dalle 16 alle 24 noi sconfiniamo cioè andiamo ogni mezz'ora c'è un artista un tol un evento un concerto una performance e questo è un'esplosione proprio nel nome della 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 nona arte vi dico solo questo cari amici di radio radio il sabato ci sarà e mariangela in brenda straordinaria modella vestita da valentina che verrà ritratta dalla scuola romana dei fumetti cioè da elena casagrande da massimo rotundo due delle matite più eccellenti insomma dico elena lavoro ormai per la dc comics in america massimo è uno dei più grandi insomma autori di disegnatori fumetti la ritraggono dal vivo lei vestita da valentina questo per dire uno dei tanti eventi che insomma raccontiamo perché magari non proprio tutti anche se insomma valentina è un mito una leggenda però raccontiamo di che stiamo parlando chi è valentina che è l'autore di questo fumetto ebbe allora stiamo parlando di videocrepax valentina era sua moglie diventò una figura iconica diciamo proprio degli anni sessanta che ha colonizzato il nostro immaginario quante quante ragazze insomma no si si vestono la valentina si è ancora oggi ecco sì magari non lo sanno perché non hanno studiato la questione nel dettaglio ma stiamo parlando è come l'invenzione della minigonna no dico quando mary quente inventò la minigonna poi la minigonna molti se la mettono magari non sanno che fu inventata da mary quente in quei formidabili anni sessanta quindi molte cose che insomma fanno parte del nostro immaginario ritornano riluco non sconfinano insomma ecco valentina è una figura assolutamente iconica nel comics ma in realtà nell'immaginario ecco questo vedi mi hai fatto come tuo come tuo solito che sei come di un uomo sapiente quelle domande che ti consentono di dare le risposte ecco valentina è una figura che sconfina perché sconfinamenti perché il fumetto da sempre colonizza il nostro immaginario ed entra nella nostra quotidianità ecco valentina è proprio insomma il personaggio perfetto per raccontare quanto il quest'arte straordinaria non è stata bidimensionale si è entrata nella nostra vita di tutti i giorni e ci fa compagnia anche senza che noi dobbiamo rifletterci troppo che magari non lo sappiamo ci sono alcuni autori ecco come nel caso crepax è un nome certo naturalmente popolarissimo però magari non tutti sono hanno questa passione anche no ci sono degli autori che sono più televisivi assolutamente e sono coloro di dei quali abbiamo visto delle cose durante magari dei programmi di grande seguito in televisione anche loro sono presenti no e anche loro sono rappresentati assolutamente faccio un nome per tutti perché un grande maestro nonostante che sia un uomo che ha una vita la giornalista perché lui è stato inviato era era con arafatte insomma andare a casa sua vuol dire entrare nella storia no un po come succedeva con gianemina che è vauro vauro sarà presente con noi ma come vauro ci sarà riccardo mannelli ci sarà cinzia leone ci sarà chiara rapaccini che insomma è stata la moglie di marie monicelli ecco vauro perché lo dico perché abbiamo in mostra quelle che sono state le sue animazioni cioè le animazioni che lui presentava a servizio pubblico con michele santoro e questo il famoso berlusconi bunga bunga no quindi queste tavole straordinarie e quindi la satira entra in mostra non è sempre così cioè non è scontato che sia così ma noi abbiamo degli artisti straordinari così come succede con l'amberto pignotti che è stato l'inventore della poesia visiva a 98 anni sui francobolli a fumetti realizzati insieme a umberto eco sono con noi in mostra dentro sconfinamenti ci racconti un particolare che ancora guarda proprio nei giorni scorsi avevo letto di un oriente espresse che si è riattivato in una formula particolare allora il viaggio ci fa pensare anche a quello che oggi per molti di noi è il viaggio semplicemente una partenza e un arrivo sono quei due momenti uno parte poi dorme e arriva ad un certo punto il viaggio è un'altra storia è un'altra avventura è un'avventura che tu puoi raccontarci bene dall'incontro con con l'amberto pignotti l'amberto è stato come dire non solo l'inventore della poesia visiva insieme dico a dadamaino insieme a tommaso binga insieme a giuseppe chiari sarenco no una scena l'ultima forse l'ultima grande avanguardia della nostra della nostra tradizione culturale e soprattutto insieme anche a giovanni fontana perché attenzione giovanni fontana ci sarà ci sarà stasera con una performance per voce e clap hands cioè per battito di mani no ecco questo è straordinario l'amberto nel così i primi anni anzi già dai dalla fine del 70 comincia a viaggiare misteriosamente tra l'italia e la russia no quella che era la russia famigerata oggi ecco un'unione sovietica visto che il putin ci sta facendo dannare a tutti ma lui inizia a viaggiare e viaggia in transiberiana questo che più lungo e straordinario viaggio al mondo dove ogni paese tu lo attraversi in questi scompartimenti di treno con lui enrico filippini con lui a un certo punto anche furio colombo con lui anche umberto eco io intercetto questa storia ne diventa un racconto fantastico perché un racconto fantastico ora uso dei termini un po strani è uno stanenie cioè in russo vuol dire uno straniamento no è il vero simile il falso ma vero ci sono ma non ci sono ci sono andato ma non ci sono andato emilio salga riscriveva le sue straordinarie straordinarie libri rimanendo chiusi in una stanza non si è mai andato nell'india misteriosa nell'india nera no e tigri di monpracen sandokan ecco di questo stiamo parlando questa forza della fantasia è la fantasia è sconfinata caro francesco ci consente di andare in qualunque luogo del mondo anche senza esserci mai stati veramente in realtà lamberto c'è stato ben quattro volte questa storia di questa russia sconosciuta misteriosa attualissima oggi perché attualissima noi continuiamo a parlare sempre di unione sovietica non ne sappiamo niente realtà no ecco di questo che forse il più grande paese al mondo la taiga la siberia questi luoghi incredibili ecco come dire la storia del sangue versato insomma ulamba tor ecco tutto questo viene raccontato da lamberto in un modo che ancora oggi non soltanto attualissime sorprendente 99 anni quando io gli ho chiesto alla fine del nostro incontro ma tu che cosa che cosa fai oggi e lui mi domanda e mi di mi risponde con una domanda tu mi dovresti domandare che arte farò domani ecco questa è la lucidità di un uomo che alla soglia di 100 anni dalle mele a me a te a tutti i ragazzini di vent'anni giovani che girano perché ancora ha voglia di fare di dimostrare allora jonathan giustini mi preme noi siamo ancora qualche minuto ce l'abbiamo parliamo di quello che accade nelle nostre città con molta serietà siamo molto motivati quando magari veniamo invitati ad un appuntamento preserale a prendere un aperitivo no l'aperitivo la pericena un termine anche discusso discutibile ma al di là del termine c'è comunque un momento di di aggregazione di di così di di comunità anche che si fa e ci sono degli appuntamenti a roma roma è una città che comunque a tante cose no c'è la musica che a te certamente non è estranea e quindi i concerti ci sono degli appuntamenti di altre forme di spettacoli il teatro il cinema senza dubbio ma c'è anche l'arte ecco l'arte è ancora più può comunicare ancora più di un di un libro di uno spettacolo teatrale insomma può essere per voi dico una sorpresa maggiore ancora può essere un una sorpresa che può lasciarvi veramente tracce profonde ci sono tanti appuntamenti alcuni sono particolarmente interessanti questo lo è come sconfinamenti perché porta anche in ballo una forma d'arte che è quella del fumetto che è veramente straordinaria perché è proprio una rende tutto più facile l'arte delle volte ti impegna un po no ad approfondire a tenere lo sguardo un po di più insomma rispetto a quello che terresti normalmente il fumetto forse spesso è immediato proprio per come arriva cerchiamo di di provarci anche a mettere nella nostra agenda di cose interessanti da fare anche l'arte e questo è uno degli appuntamenti che vi suggeriamo beh dunque mi ha dato un assist importante come sempre fai devo dirti che il fumetto fa parte della nostra quotidianità nella nostra vita ieri è venuto marco fabio polloni che è un importante antiquari che ci sono in italia forse al mondo via margutta lui è in quelli che una volta erano gli studi di un signore che si chiamava e giorgio de chirico allora marco fabio è venuto ma perché è venuto cosa c'entra un grande antiquario con il comics c'entra tantissimo perché se lui oggi un grande antiquario e grazie al fumetto e allora sentire questa leccio magistralis di un 40 minuti di questo signore che insomma è la storia dell'antiquariato in italia e il capitolium art gallery ogni tanto si occupa anche di antiquariato lo fa ad altissimo livello ecco come dire anzi costantemente se ne occupa e ecco sentire parlare questo signore di fumetto lui che gestisce come dire il canova no nelle sue collezioni è sorprendente e perché è sorprendente perché torniamo tutti i bambini no torniamo tutti i bambini siamo un po come gli americani che alla fine dice ma perché mangiate l'hamburger e dice questa è la lezione che mi faceva il mio maestro niente concini che tu hai ospitato a parlare di questo libro dice perché tornate a mangiare perché mangiate l'hamburger perché noi torniamo bambini cioè l'hamburger che cos'è è il cibo dell'infanzia e allora che cos'è il fumetto il fumetto in fondo è il cibo dell'infanzia ecco questa cosa io ho capito in maniera dice ma l'hai capito adesso la storia dei 60 anni sì forse sì cioè nel senso che noi torniamo bambini abbiamo bisogno di tornare all'infanzia no così come i bambini hanno bisogno di pensare a quello che saranno domani a quello che saranno da grandi in fondo che cosa fa il comics il comics confina come la vita noi non smettiamo mai di andare indietro avanti e forse questa è l'unica arte che ci consente di stare come dire in una sorta di tridimensione mentale cioè di essere costantemente ieri oggi e domani noi teniamoci aggrappati a questa possibilità perché sennò siamo proprio fuori da ogni da ogni emozione siamo distratti e la distrazione poi dura tre minuti poi c'è un'altra distrazione così via invece a sentire jonathan giustini che racconta l'arte non solo ma quello che anche figure che hanno a che fare con milioni di euro con interessi straordinari milionari invece non rinnegano anzi hanno per il fumetto in questo caso ma per alcune forme d'arte hanno un'attenzione e dedicano uno spazio della loro vita preziosa e questo è per fortuna ci salva insomma io vorrei veramente che facessimo il più possibile resistenza e avessimo la possibilità nel futuro di non costa nulla peraltro partecipare a questi eventi no questo è un evento assolutamente gratuito l'entrata l'entrata è libera ci tengo con francesco anche a dire questa cosa se insomma il fumetto entra in una galleria d'arte no entro le gallerie ma questo non perché io abbia scoperto l'acqua calda ma perché se tu prendi come dire tra le mani una tavola di erge noi creatori tenten o prendi tra le mani una tavola di di arwin mckay cioè il creatore di little nemo ecco allora queste sono tavole che hanno un grande valore commerciale hanno un valore commerciale come può avere un lavoro appunto di de chirico non ne parlavamo prima e allora anche questo è sconfinare cioè rivalutare capire sapere che il fumetto non è soltanto un'arte popolare che tu una volta compravi nelle edicole adesso le dico non ci sono più quasi più ma esiste il digitale ma è il suo anche valore dobbiamo riflettere no su questo allora la mia piccola insieme appunto gli amici di capitolium la nostra umilissima ecco no scommessa che è una goccia nell'oceano è anche quella di guardate che va uno come mannelli come anche leo max che sarà con noi oggi autori che il mercato americano ha assorbito cioè lui lavora ormai per la marvel lavora per la dc comics tutti i supereroi americani no molti alcuni sono fatti da lui x man ecco è arte e merita di essere insieme al grande flusso dell'arte contemporanea tu la racconti molto bene grazie jonathan fino all'otto giugno sconfinamenti